Buona giornata amici, oggi è lunedì 26 luglio 2021, è una bella giornata, staremo insieme tutta la settimana per leggere i giornali, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico, ma prima vediamo subito il Santo del Giorno e il Meteo. I Santi del Giorno sono Gioacchino e Anna, sono il padre e la madre di Maria Santissima, sono due personaggi di cui si sa poco, i giornali, i Vangeli, scusate non i giornali, i Vangeli ne parlano poco, però insomma qualche notizia si ha, Santi, Gioacchino e Anna. Il meteo, il tempo è un po' cambiato rispetto alla settimana scorsa, vediamo appunto la cartina e vediamo subito che il sole è un po' fuscato da nubi, qualche pioggerella, anche ieri si è avuto un piccolo acquazzone, ma nulla di che il tempo poi rimane così un po' per tutta la giornata, ci sarà qualche variazione tra la costa e l'entroterra, ma insomma forse questo farà sì che la giornata sarà meno calda dei giorni scorsi. Ed è immancabile il nostro appuntamento con il concessionario di spiaggia. Questa settimana abbiamo Andrea Bazzani, titolare dei bagni Chalet a Morino di Porto San Giorgio. Vediamo se abbiamo ripristinato, sì c'è il collegamento. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno. Sono Massimo Soghetti, piacere di conoscerti. A me. Andrea il tempo oggi è un po' incerto, vedo qualche nuvola sopra il tuo capo. Un po' incerto, sì è un po' grigio, non è proprio una bellissima giornata. Benissimo, speriamo che sia così. Comunque con un tempo così ci sono ugualmente i bagnanti in spiaggia, arriveranno più tardi? Sì, magari un po' più tardi arriverà qualcuno, magari si rimette anche un po' il tempo. Senti, parlaci un po' della tua concessione. Quanti ombrelloni hai, quali servizi predisponi? La mia concessione ha quasi 200 ombrelloni, 250 lettini, ho un campo da basket, un campo da beach volley, un campo da beach tennis, noleggio pedalò Mosconi e Sup, campo da ping pong, bigliardino, sì è una bella concessione. Non si prende solo il sole, insomma, si passa una vacanza viva? Sì. Benissimo, ci fai vedere un po' il mare com'è stamattina? Sì, stavo giusto andando giù in riva. Ah, in questo momento non sei in spiaggia? Sì, sono in spiaggia a metà spiaggia. Ah, ecco. Ecco il mare, vediamo quelle nuvole, insomma, che si confondono un po' con l'acqua grigia oggi. C'è un leggero chiarore laggiù, il sole probabilmente fa un riflesso. Vabbè, comunque il sole oggi non si vede. No, mi sa che oggi il sole non lo vediamo, forse più tardi. Senti, a Porto San Giorgio com'è l'affluenza dei turisti? Ci sono? Sì, ci sono turisti. Questo weekend c'è stata abbastanza affluenza. Certo, il Covid è sempre quello che è, però i turisti ci sono. Benissimo. Ebbè, insomma, le marche cominciano ad attrarre, anche perché abbiamo un testimonio d'eccezione, quindi la gente impara a conoscerci, insomma. Ormai siamo un po' sulla cresta dell'onda. Grazie ad Andrea, ci risentiamo domani. Prego, a domani. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Ora possiamo dare un'occhiata ai giornali a partire dalla prima pagina del Corriere Adriatico. Il titolo di apertura riguarda quello che è capitato un po' nel weekend. È stato un weekend piuttosto turbolento, forse perché ci stiamo avvicinando ad agosto e la temperatura sale. Vediamo che la Movida, insomma, si è animata. Il titolo del Corriere, che stamattina è Movida Caos, volano le denunce. C'è stato un esposto alla procura del gestore del Napoleon di Pesaro. La notte è una bolgia, ha detto, chiediamo più controlli. E alla festa dei ragazzini arriva anche la polizia locale, sanzionato il chiosco al mare, gestito da Carriera. Poi vediamo una sfilza di fotografie di politici. Sono i politici che rilasciano dichiarazioni sul Green Pass, la parola ai nostri parlamentari. E poi, col torti, io e il vaccino non lo dico. Vedremo un po' poi com'è la situazione. Tre notizie di cronaca a centropagina. Pesaro, dopo i baby vandali, piazza Redi, sistemata da giovani volontari. Volevano il Rolex di Bizzocchi, lui li prende a pugni. E poi a Fano, sicurezza alla Rocca, adesso garantita da sette telecamere. Ci sono anche notizie di sport, si parla della visse, si parla del Fano Calcio. Questa visse, già mi piace, avanti così, parla il tecnico Bianchini e il richiamo in prima pagina. Una notizia da Urbino, docenti a piedi da Urbino fino a Gubbio per il Duca. Una bella iniziativa questa che coinvolge anche l'università. Vediamo contagi, quattro ubicati nell'ultimo mese con i ricoveri immobili. L'analisi della settimana per settimana fatta a livello regionale, degenti nelle tre aree degli ospedali. I numeri sono ancora bassi, per fortuna, ma conforta la protezione in crescita dei vaccini. Ebbene, vediamo il trend delle ultime quattro settimane, dal 27 giugno al 24 luglio. Il numero dei contagi, 118 fino al 3 luglio, 230 al 10 luglio, 295 al 17, 550 al 24. Un trend in crescita. Terapie intensive, insomma, i numeri per fortuna qui sono in calo. 6 il 27 giugno, 1 il 10 luglio, 2 il 17 e 2 il 24 luglio. E questo è il dato magari più confortante. Comunque vediamo che il trend dei contagi è in crescita e questo fa pensare. Nuovi medici di base, 118. In autunno via i corsi. L'annuncio è dell'assessore regionale alla sanità, a Saltamartini. Un percorso dedicato alla centrale di soccorso. Dall'altra parte, tetto dei pazienti convenzionati da 1.500 a 1.800 e dentro gli specializzanti. Ebbene, ci sono due problemi nelle marche per quanto riguarda la sanità e non sono neanche piccoli. Il primo riguarda i medici di prima linea, ovvero quelli di base. E poi il 118, i medici del pronto soccorso. Su 180 medici attuali del 118 ne mancano circa 60. Ed è questa la stima che circola tra Torrette e Palazzo Rossini in regione. Il secondo riguarda la questione ancora più delicata della carenza dei medici di base. Insomma, i medici a università sono contingentati e poi alla fine vediamo che chi si presta in servizio sono pochi e quindi occorre inclementare l'offerta. Movida, albergatore, presenta denuncia. Fermate la bolgia sulla pagina di Pesaro. Esposto alla procura del gestore del Napoleon, crocevia di Baldoria notturna. In Viale Trieste chiede un'azione più incisiva, dichiarato da parte delle forze dell'ordine. È un esposto, spiega, contro episodi al limite. Insomma, schiamazzi, rumore incontrollato per tutta la notte. De decine e decine di giovanissimi si sono ritrovati sul viale, ben oltre l'orario di chiusura dei chioschi, tutto nito al decibo della musica diffusa, molto molto alti. E questo un po' genera il contrasto tra chi vuole passare una vacanza tranquilla in albergo o in una struttura ricettiva, oppure vuole divertirsi fino a notte fonda. Insomma, un eterno contrasto che caratterizza un po' tutte le vacanze e tutti gli anni. Festa tra ragazzini al chiosco. Arrivano i vigili, scatta la multa. Il locale sanzionato è quello gestito da Carriera, che ancora una volta si trova nell'occhio del ciclone. Si trova nella zona mare, acqua marina nel tratto terminale della zona di Levante di Viale Trieste, dove inizia la ciclabile. È arrivata la polizia locale ed è scattata la sanzione, una multa di 400 euro. È stato accertato dei vigili che era in corso una festa con notevole affollamento di ragazzi, per lo più minorenni. I ragazzi non erano distanziati, come prescrive la normativa, e quindi erano a rischio di contagio Covid. Non è stato però necessario provvedere alla chiusura del locale perché vi ha provveduto direttamente il gestore. E c'è stata collaborazione, come c'è stata collaborazione a Fano nei giorni scorsi, nei giorni precedenti, per quanto riguarda i controlli eseguiti nei locali dell'Arzilla. Anche qui i gestori hanno collaborato e quindi le reazioni dei vigili sono state contemporate. Piazza Redi, la rinascita passa attraverso i giovani volontari, dalle incursioni dei ragazzini vandali ai coetanei che si mettono al servizio del quartiere. Due facce della stessa medaglia, la medaglia è quella della gioventù, dei nostri giovani. Le due facce sono quelle dei volontari e quella dei vandali. I giovani volontari sono stati impegnati nel progetto Ci sto a fare fatica. Esempio di cittadinanza attiva post scuola, che è una scorta di educazione civica sul campo. E qui ci sono, vedete la fotografia, ci sono ragazzi che col pennello e la vernice stanno pitturando le banchine, con una vernice di protezione, insomma, stanno poi decorando oppure curando gli arredi di tutta la piazza. Ed ora un episodio di cronaca. Vogliono il Rolex e i soldi di Bizzocchi. Lui però reagisce, li prende a cazzotti e li fa scappare. Una coppia di balordi ha tentato di derubare l'imprenditore di notte mentre tornava a casa. Volevano il suo orologio, un orologio prezioso e anche tutti i suoi soldi. Ma l'imprenditore, ex presidente della Vis, lo ricordiamo, non c'è stato. Ha reagito, ha dato un cazzotto all'uomo e l'ha letteralmente steso. E poi ne ha avute anche per la sua complice una donna, insomma, la quale ha visto la mala parata e poi è scappata. Erano un uomo e una donna, forse dei tossici. Paura? No, ha letto Bizzocchi. Ho provato soltanto rabbia. E quindi una reazione che è andata a buon fine. Ma di solito bisogna stare attenti alle reazioni perché corrono il rischio di finire male. Pancina della Valle Foglia, biodigestore, dati e analisi carenti. Ecco i rilievi di provincia e ARPAM. Le motivazioni che hanno portato alla via, la via e la valutazione di impatto ambientale, per l'azienda gli impatti erano trascurabili. Ebbene anche in questo caso vediamo che nella conferenza dei servizi convocata dalla provincia era stata mossa ad alcuni enti una serie di rilievi tecnici per cui si è pervenuti nel febbraio scorso alla decisione di assoggettare il progetto alla via per verificarne le conseguenze sui contesti naturali e antropoizzati. Ebbene le criticità più significative sono state espresse nel parere del servizio di pianificazione territoriale e urbanistica della provincia. La documentazione presentata mette in evidenza questo risultato, non permette di valutare i potenziali impatti su alcuni componenti ambientali e sulla popolazione. Insomma è da ripensare, da vedere bene la soluzione di questo problema. Vediamo ancora sul Corriere Adriatico la pagina di Urbino, questa iniziativa della Università Cammino del Duca Federico per uno sviluppo sostenibile. Da oggi a venerdì i docenti dell'Università di Urbino raggiungono gubbio a piedi, a piedi lungo i sentieri. Un'iniziativa splendida per chi può camminare tranquillamente nel nostro paesaggio. Insomma si vedono le colline, si vedono i sentieri percorsi anche da Federico da Montefeltro, dal suo Palazzo Ducale a Urbania e poi ancora verso Gubbio perché i domini di Federico si estendevano anche al di là appunto dei primi contrafforti dell'Apennino e quindi è interessante questo a livello turistico, questa iniziativa consapevole di passare tra arte e paesaggio con Aspes, scusate, con paesaggio per la prima tappa addirittura interviene anche il Rettore. Parlavo di Aspes e fusione, convocate le commissioni consigliari, PD e Vivo Urbino stroncano l'operazione con Aspes, Urbino servizi allo sbando. Sulla pagina di Fano l'apertura è dedicata ad un'iniziativa che era stata promessa ed è stata attuata, le telecamere alla Rocca Malatestiana. Il Giardino della Rocca, sappiamo, sono stati il teatro di alcuni episodi di cronaca che hanno sollevato anche la reazione della gente. Adesso le telecamere vigilano sulla sicurezza, se ne sono state installate sette. Il numero è aumentato rispetto al passato dopo il violento pestaggio di maggio. Sette grandi occhi che vigilano ora sull'area antistante della Rocca. Ci è voluto un po' perché il progetto di videosorveglianza trovasse attuazione e non si può ragionevolmente escludere che nella sua brutalità l'aggressione dell'8 maggio da parte di un gruppuscolo di facinorosi ai danni di due ragazzini abbia se non altro fatto a crescere la consapevolezza che su quel sito, già teatro di altri fatti in passato, bisognasse organizzare una marcatura stretta e senza altri ritardi. Ma la promessa dell'assessore Brunori è quella che ogni intervento che verrà fatto di riqualificazione di parti della città, come piazze, giardini, eccetera, sarà unito ad un nuovo impianto di videosorveglianza. Ormai saremmo controllati in tutti i luoghi, però insomma questo aumenta la sicurezza. Vogliamo il Consiglio in presenza alla Memo. Il Consiglio Comunale di Fano da tanto tempo ormai non si riunisce più nella sua sala consigliare per le note disposizioni anti-Covid. È solo attuato in videodiffusione. Adesso invece i gruppi consigliari vorrebbero che si ritornasse in presenza. L'iniziativa è dei pentastellati, però ha radunato un po' tutti gli altri partiti di opposizione, compreso quello di maggioranza, il Partito Democratico. Diversi consiglieri hanno sottoscritto questa lettera che è stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale insieme al Sindaco, agli assessori, ai dirigenti del Comune. Poderino perde i servizi, l'allarme del Comitato. Hanno chiuso molti esercizi dopo le poste, cambia anche l'edilizia. Tutto è iniziato al Poderino con il trasferimento delle poste. Una volta erano sotto il Parco delle Rose. Poi è proseguito con quello degli studi medici, poi è toccato ai negozi, hanno chiuso la merceria, la macelleria, la pasta fresca, si sono trasferite la rosticceria e poi a un certo punto è chiuso anche il supermercato e poi definitivamente ha chiuso l'edicola. L'edicola che è un po' il centro di riunione sociale, culturale del quartiere e questo ha fatto sentire una certa carenza. Insomma il quartiere di Poderino a Fano perde i pezzi e questo non va bene. Non va bene perché molte villette uni o bifamiliari si stanno ristrutturando e lasciando il posto magari a case a case con sei appartamenti e questo aumenta la popolazione però diminuiscono i servizi. L'allarme del Comitato Viviamo il Poderino che sta organizzando diverse iniziative di animazione nel quartiere. Insomma è un problema questo da considerare. Sulla Valcesano rievocata la pesca della tratta con la colazione di orzo e anice all'alba di ieri a Marotta, prima giornata di festa spalmata da tre domeniche. Un'iniziativa di cronaca di Mondolfo, anziano cade dall'albero, si è fratturato il vaccino. Sulla pagina di Senigaglia cade dalla navetta per la discoteca, ragazzo trovato a terra sanguinante, era sul bus per il Mamma Mia, indaga la polizia stradale, teppisti in spiaggia, ombrelloni bruciati. Ancora una volta in spiaggia i teppisti, i vandali che distruggono le strutture balneare, ombrelloni, sedia sdraio, lettini, insomma veramente una situazione da tenere sotto controllo. Ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino. Vaccinati e ricoverati solo uno, è un po' l'esito dei controlli che sono stati fatti ultimamente, è un immunodepresso, questo uno, in subintensiva due che non avevano fatto il siero, ora si sono ravveduti. La fotografia, la fotonotizia riguarda Carrera con Salvini, dopo Salvini arriva la multa, i 400 euro per cui è stato sanzionato il locale dell'imprenditore. Poi vediamo la notizia di cronaca, allucinogini e poi il malore, sta meglio la donna finita in ospedale e per lo sport i verdetti del CONI e la nuova società fanno l'ora delle decisioni. Apriamo il giornale, vediamo subito il richiamo per quanto riguarda il locale di Carrera, prima Salvini poi la multa, all'indomani della visita del segretario della Lega controlli della polizia locale all'acqua marina dove c'erano un centinaio di ragazzini che non rispettavano le distanze di sicurezza per il Covid. E poi in ospedale, malgrado il vaccino, uno su nove e intanto qualcuno si ravvede in corsia. I pazienti attualmente a Marche Nord per lo più non avevano cominciato né completato il ciclo. Frausini è il momento di accelerare e c'è un'intervista al dirigente del reparto di medicina di Marche Nord, Gabriele Frausini e vediamo alcune domande. Direttore Frausini, quanti pazienti ha nel suo reparto? Al momento quattro. Sono vaccinati? Due no. Uno aveva ricevuto la prima dose, un altro anche la seconda pochi giorni prima, ma si vede che ancora questa dose non aveva fatto effetto. La sorprende? Finora di ricoverati, risponde dottor Frausini, che mi hanno sorpreso non c'è stato nessuno, nel senso che è noto che una sola dose di vaccino non dà una copertura sufficiente. Il paziente che ne aveva fatte due? Ebbene, aveva fatto il richiamo da pochissimi giorni, quindi non aveva ancora sviluppato una protezione efficace, il che vuol dire che dopo alcuni giorni, dopo la seconda dose, ci si può stare almeno tranquilli e più sereni per quanto riguarda il contagio che comunque ancora si sviluppa e adesso si sviluppa anche tra i giovani. Giriamo pagina, vediamo la notizia di cronaca relativa al parti allucinogeno, in recupero all'ultima ricoverata, trasferita dalla rianimazione alla medicina, la trentenne, finita in overdose per quattro amici in un parco di Gradara. Proseguono intanto le indagini per questa iniziativa, insomma, sconsiderata, che ha visto ancora una volta i giovani riunirsi senza precauzioni. Bacio gay bersagliati con un lancio di mele. Ebbene, due uomini si sono nemmeno molto appartati, si scambiavano effusioni all'ombra di un albero intorno alle 23 in via Campo Sportivo a Pesaro, vicino allo stadio Benelli. Si scambiavano un bacio, uno di essi è conosciuto per la sua professione di speaker radiofonico, si tratta di Roberto Bagazzoli, il quale rilascia anche delle dichiarazioni al resto del Carlino questa mattina, però un passante, vedendoli cosa ha fatto, li ha bersagliati con un lancio di mele. È una reazione veramente che ancora dimostra come la cultura sull'omofobia deve ancora svilupparsi molto, molto. E Bizocchi racconta l'agguato per il tentativo di furto del suo Rolex, così, gli ho fatti scappare, dici, avvicinato di notte da due persone in via Ermada, un uomo e una donna, volevano i soldi e il Rolex, ho reagito, li ho colpiti e sono fuggiti con una golf nera, indagano ovviamente le forze dell'ordine. E poi in Baia Flaminia c'è stato un principio di incendio, in un'auto, Baia Flaminia, arrivano i pompieri. Chiediamo un'occhiata, siamo ormai in chiusura anche allo sport, sul Corriere Adriatico vediamo che si parla sempre di Vis. Questa Vis ha voglia di ruggire. Bianchini soddisfatto della rosa a disposizione, un bel mix tra giovani giocatori più esperti. C'è una intervista, una lunga intervista, piena pagina oggi sul Corriere Adriatico, sul futuro della Vis e come la squadra si prepara al campionato. Mentre per quanto riguarda il Fano, giorni decisivi, sono diversi i giorni decisivi perché cresce l'ansia, l'attenzione per sapere se potrà disputare il campionato di Serie C o rimarrà in D. Giorni decisivi per il Fano, tutto il destino in 48 ore. Oggi la seduta del Collegio di Garanzia, domani il Consiglio federale, in Paglio c'è la C. E vediamo anche la VL, VL più alta, bene così, le prime impressioni di Luca Pentucci, confermato assistente anche di Petrovic e Savignani. Siamo fisicamente più grossi. È stata una scelta precisa, sarà un campionato equilibrato. Ebbene questa era l'ultima notizia, Massimo Foghetti vi saluta, noi ci risentiamo domani, però io vi do appuntamento alla informazione delle 20.30 di questa sera. Buona giornata. Grazie.